Luca Salatino ha finalmente ricevuto un aereo dalla fidanzata Soraya Allam Ceruti. Il messaggio arriva pochi giorni dopo una segnalazione spinosa Sallex corteggiatrice di uomini e donne. Giovedì ricchissimo di aerei per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. I primi due sono stati dedicati ai Donnalisi, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il primo era per la coppia e recitava. Dei più matti c'è semo innamorati. Poi ne è arrivato solo per la influencer salernitana. Che secondo il mittente è maturata tanto. Nel primo pomeriggio è stato il turno di Sara Altobello. Che ha ricevuto una bellissima dedica dal suo manager Tony. Ti penso. Il mio cuore è tuo. Hanno seguito uno criptico per i Gin Tonic, Ginevra e Antonino, voi in libreria. Noi in distilleria e un altro in supporto di Luca Onestini. Ma i fan di Uomini e Donne attendevano con ansia l'aereo per Luca Salatino da parte di Soraya. Che è arrivato. Pochi giorni fa Medeo Venza, uno dei blogger di Instagram che riceve più segnalazioni sui VIP, aveva pubblicato una storia che ha fatto scalpore. In estrema sintesi, una sua follower gli raccontava che Soraya era salita a bordo di una macchina guidata da un uomo molto attraente dopo aver trascorso del tempo in un bar. La diretta interessata aveva smentito tutto. Etichettando la segnalazione come una stron asterisco ata. Poche ore dopo, la scelta di Luca Salatino nell'edizione 2021-22 di Uomini e Donne ha mandato un aereo al fidanzato. L'aereo di Soraya. Luca Salatino non si aspettava di riceverlo. Dal momento che era dentro casa quando il velivolo ha iniziato a sorvolare la casa del GF. I vipponi che erano fuori l'hanno chiamato in fretta e furia e invitato ad uscire in giardino. In particolare Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi hanno insistito affinché si muovesse. Il velivolo recitava. Lupo lotta fino alla fine. Ti amo Soraya. La famiglia è Ant. Andy. A quanto pare. Sta per Andy. Il tronista ha reagito. Semplicemente. Scoppiando a piangere e continuando a fissare il cielo. Dopo settimane di silenzio. Finalmente Soraya è tornata a farsi sentire. Mandandogli il più semplice e al contempo bello dei messaggi. I primi ad abbracciarlo sono stati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Che sono tra i coinquilini con il lupo allegato di più. Anche Tavassi gli ha dato una serie di pacche sulle spalle per dimostrare la sua felicità. Insomma un bel momento per Luca. Che nel corso di questi giorni ha sofferto molto. Anche e soprattutto per la mancanza della bellissima Soraya. A cui si è legato poche settimane prima di partire per questa nuova avventura televisiva.